Perché è un'opera strategica non solo per la città di Trento ma anche per tutta la provincia, in particolare per la parte occidentale della provincia di Trento, perché consentirebbe a un turista che arriva dalla Germania di lasciare il treno a Trento e arrivare in bicicletta a Riva del Garda o ad Arco. Ma non solo per questo, anche per chi abita in questi territori potrebbe raggiungere velocemente la città, con la possibilità adesso molto diffusa di utilizzare la bici elettrica, con tutti gli incentivi governativi ma anche provinciali di acquisto della bici elettrica, superare questa salita non sarebbe più difficoltoso, non sarebbe più una possibilità per pochi. In 17 anni non è stato fatto poco, si è parlato tanto ma è stato fatto poco, è stato fatto un disegno ipotetico nei primi anni 2000 ma dopo questo disegno è rimasto lì, nonostante le buone intenzioni della provincia, della certezione Bondone ma non solo, anche dei comuni limitrofi non si è mai preso in mano, non si è mai finanziato, non si è mai dato un seguito a quell'idea. Non è stata inserita all'interno del Recovery Fund, purtroppo devo dire perché era la possibilità da cogliere per finanziare un'opera così complessa sia dal punto di vista tecnico, ingegneristico ma anche dal punto di vista economico perché si parla di circa 6 milioni di euro per l'investimento in questa opera. Era un'opportunità da cogliere perché veniva finanziato con dei fondi europei la possibilità di una mobilità diversa da quella motorizzata. Non è nulla di invidiare a Ponte Alto, nel senso che c'è un corso d'acqua molto caratteristico, ci sono delle cascate, c'è roccia a destra, a sinistra, ci sono dei manufatti storici, basta pensare al museo alle nostre spalle, quindi ci sarebbe da pensare a tutto un sistema attorno alla ciclabile, a un ecomuseo mi verrebbe da pensare, che possa valorizzare tutto l'intero territorio del bus de Vila. La circostituzione ha inserito quest'opera nella lista delle priorità della circostituzione come opera strategica e chiediamo al comune di Trento di farsi portavoce assieme ai comuni limitrofi della Valle dei Laghi, assieme alla provincia per elaborare un progetto, per ragionare il progetto dei primi anni 2000 e valutare il finanziamento di quest'opera.